Ciao a tutti amici di Sashine Money, benvenuti e ben ritrovati. Come sempre mi raccomando, prima di iniziare volevo invitarvi ad iscrivervi, ad attivare la campanellina e a lasciare un bel like a questo video. Questi sono i gesti che a voi non costano assolutamente nulla, a me aiutano ai fini della crescita del canale. Oggi andiamo a vedere questo sito chiamato ChuCaptcha, grazie al quale saremo pagati per risolvere dei comunissimi captcha. Una volta che sarete su questa pagina, come sempre trovate tutti i link necessari in descrizione ai miei video, ovviamente bisognerà registrarsi. Quindi cliccando sulla voce iscriviti, c'è da dire che ho tradotto la pagina in italiano, potremo iscriverci o attraverso una nostra email, quindi una password, ripetendo la password. Qui dovremo indicare la valuta nel quale vogliamo visualizzare i nostri guadagni, io per comodità ho indicato euro, quindi accettare termine e condizioni e tutto sommato iscriversi, ma è possibile farlo anche attraverso il proprio account Google. Per quanto riguarda l'iscrizione attraverso Facebook, almeno nel momento in cui l'ho fatta io, non era disponibile, quindi per comodità e per velocità, personalmente ho scelto l'iscrizione attraverso Google. Una volta dentro il sito è veramente semplicissimo da usare, basterà in questa finestrella in alto a destra scegliere la voce worker, lavoratore, perché appunto noi siamo i lavoratori, siamo coloro che devono risolvere i CAPTCHA, quindi cliccando sulla voce Start Work, inizieremo a visualizzare dei CAPTCHA da risolvere e in questo modo tutto sommato saremo pagati, quindi vedremo il nostro balance man mano aumentare ad ogni CAPTCHA che andremo a risolvere. Quindi arrivati in questa sezione ricliccheremo su Start Work ed ecco qui che i primi CAPTCHA ci vengono mostrati. C'è anche un tempo nel quale risolvere il CAPTCHA, nel caso questo CAPTCHA non ci fosse chiaro, possiamo cliccare su Cannot Solve, ossia non riesco a risolvere questo CAPTCHA, che sarà saltato e ce ne sarà mostrato un altro. Quindi una volta risolto e indicato il nostro CAPTCHA, ce ne sarà mostrato uno successivo. Come potete vedere ho risolto il mio CAPTCHA, quindi il mio balance man mano andrà ad aumentare e in questa sezione mi vengono anche indicati effettivamente i CAPTCHA che ho risolto. Bisogna tenere presente nella risoluzione dei CAPTCHA sia le lettere maiuscole che minuscole. E come potete vedere sto continuando a risolvere i miei CAPTCHA, quindi il mio balance aumenta e i miei CAPTCHA risolti continuano ad essere conteggiati. E in questo modo posso andare avanti fin quando voglio. Per terminare molto semplicemente vi basterà cliccare su questa icona di Stop. Quindi mi sarà chiesto di risolvere l'ultimo CAPTCHA e in automatico la risoluzione dei CAPTCHA si fermerà. Per rendere il tutto più veloce e più piacevole è anche possibile utilizzare un bot Telegram che troviamo in fondo alla dashboard. Quindi una volta fatto partire cliccando su Start e su Login dovremo inserire la nostra chiave per entrare effettivamente nel nostro account. Per trovare tale chiave basterà ritornare sulla dashboard del sito, andare in fondo ed eccola qui. Basterà copiare questa chiave e inserirla all'interno del bot Telegram. In questo modo tale bot entrerà in automatico nel nostro account. Ed ecco qui, sono entrato nel mio account, quindi a questo punto cliccando su Start mi saranno mostrati i vari CAPTCHA e andando a risolverli i miei guadagni andranno direttamente, li vedrò direttamente accreditati nel mio account. In questo modo sicuramente il tutto diventa più veloce e piacevole. Così magari posso risolvere i miei CAPTCHA in comodità sul mio divano e godermi i miei guadagni. È possibile anche fare rete, basterà andare in fondo nella sezione Affiliate Program e qui troviamo il nostro reflink da condividere con i nostri amici. A tal proposito potete ovviamente anche aiutarvi con il gruppo Facebook che come ben sapete ho già creato da un po' di tempo per voi, per aiutarvi ad accrescere la vostra rete ref, quindi tutto sommato i vostri guadagni. Questo è un gruppo Facebook libro aperto dove tutti si possono iscrivere e pubblicare le proprie opportunità. Mi raccomando, abbiate solo l'accortezza di descrivere bene attentamente ciò che state proponendo affinché si possa capire esattamente di cosa si tratta. Per quanto riguarda i prelievi, basterà cliccare su questa freccetta in alto, quindi sulla voce Change Wallet, scegliere il proprio sistema di pagamento. Come potete vedere ce ne sono veramente tanti. Si va dalle crypto come Bitcoin e OSDT su Rete Tron, c'è anche Bitcoin Cash, ad altri sistemi di pagamento conosciuti come Pair e Perfect Money. Ogni sistema di pagamento ha il suo prelievo minimo, si va da appena 25 centesimi per quanto riguarda Bitcoin Cash fino addirittura a un minimo di 30 dollari per quanto riguarda OSDT su Rete Tron. Quindi una volta scelto il proprio sistema preferito, ad esempio in questo video vado a indicare il OSDT su Rete Tron, basterà indicare il wallet e salvare il proprio sistema. Arrivati quindi a prelievo minimo basterà richiedere il pagamento sul sistema scelto. Direi che per questo video è tutto e in chiusura come sempre vi ringrazio dell'autorizzazione, mi raccomando vi invito ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina e a lasciare un bel like a questo video. Per me sono gesti che a voi non costano assolutamente nulla, a me aiutano ai fini della crescita del canale. Ricordo che potete trovarmi anche all'interno del prima citato gruppo Facebook del canale Telegram e sulla pagina Library. Come sempre trovate tutti i link necessari in descrizione ai miei video. Sono Stefano, vi auguro buoni guadagni con i CAPTCHA, buon divertimento e buoni guadagni con i CAPTCHA. Ciao e al prossimo appuntamento.